Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per il gentile invito a celebrare insieme questo anniversario parrocchiale. Sono trascorsi più di 200 anni da quando si tenne a Roma il primo servizio liturgico pubblico anglicano per un gruppo di residenti inglesi che vivevano in questa parte della città. Molto a Roma e nel mondo è cambiato da allora. Nel corso di questi due secoli molto è cambiato, anche tra anglicani e cattolici, che nel passato si guardavano con sospetto e ostilità. Oggi, grazie a Dio, ci riconosciamo come veramente siamo, fratelli e sorelle in Cristo, mediante il nostro comune battesimo. Come amici e pellegrini desideriamo camminare insieme, seguire insieme il nostro Signore Gesù Cristo. Mi avete invitato a benedire la nuova icona di Cristo, Salvatore. Cristo ci guarda. Il suo sguardo posato su di noi è uno sguardo di salvezza, di amore, di compassione. E' lo stesso sguardo misericordioso che trafisse il cuore degli apostoli che iniziarono un cammino di vita nuova per seguire e annunciare il Maestro. In questa santa immagine, Gesù, guardandoci, sembra rivolgere anche a noi una chiamata, un appello. «Sei pronto a lasciare qualcosa del tuo passato per me? Vuoi essere messaggero del mio amore, della mia misericordia?» La misericordia divina è la sorgente di tutto il ministero cristiano, ce lo dice l'Apostolo Paolo, rivolgendosi ai Corinzi, nella lettura che abbiamo appena ascoltato. Egli scrive, «Avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo d'animo». In effetti, San Paolo non ha sempre avuto un rapporto facile con la comunità di Corinto, come dimostrano le sue lettere. Ci fu anche una visita dolorosa a questa comunità e parole concitate venero scambiate per iscritto. Ma questo brano mostra l'Apostolo che supera le divergenze del passato e, vivendo il suo ministero, secondo la misericordia ricevuta, non si rassegna davanti alle divisioni, ma si spende per la riconciliazione. quando noi, comunità di cristiani battezzati, ci troviamo di fronte a disaccordi e ci poniamo davanti al volto misericordioso di Cristo per superarli, facciamo proprio come ha fatto San Paolo in una delle prime comunità cristiane. Come si cimenta Paolo in questo compito, da dove comincia? Dall'umiltà, che non è solo una bella virtù, è una questione di identità. Paolo si comprende come un servitore che non annuncia a sé stesso, ma Cristo Gesù Signore, e compie questo servizio, questo ministero, secondo la misericordia che gli è stata accordata, non in base alla sua bravura e contando sulle sue forze, ma nella fiducia che Dio lo guarda e sostiene con misericordia la sua debolezza. diventare umili e decentrarsi, uscire dal centro, riconorsersi bisognosi di Cristo, mendicanti di misericordia. È il punto di partenza perché sia Dio a operare un presidente del Consiglio Ecumenico delle Chiese descrisse l'evangelizzazione cristiana come un mendicante che dice a un altro mendicante dove trovare il pane. Credo che San Paolo a breve ha provato. Egli si sentiva sfamato dalla misericordia e la sua priorità era condividere con gli altri il suo pane, la gioia di essere amati dal Signore e di amarlo. Questo è il nostro bene più prezioso, il nostro tesoro. e in questo contesto Paolo introduce una delle sue immagini più notte che possiamo applicare a tutti noi. Abbiamo questo tesoro in vassi di cretta. Siamo solo vassi di cretta, ma custodiamo dentro di noi il più grande tesoro del mondo. I corinzi sapevano bene che era sciocco per servare qualcosa di prezioso in vasti di creta, che erano a buon mercato, ma si crepavano facilmente. Tenere al loro interno qualcosa di pregiato voleva dire rischiare di perderlo. Paolo, peccatore, graziato, umilmente riconosce di essere fragile come un vasso di creta, ma ha sperimentato che sa che proprio lì dove la miseria umana si apre all'azione misericordiosa di Dio, il Signore opera meraviglie. Così opera la straordinaria potenza di Dio. Fiducioso in quest'umile potenza, Paolo serve il Vangelo. Parlando di alcuni suoi avversari a Corinto, li chiamerà superapostoli, forse e con una certa ironia, perché lo avevano criticato per le sue debolezze da cui loro si ritenevano essenti. Paolo invece insegna che solo riconoscendoci deboli, deboli vasti di creta, peccatori sempre bisognosi di misericordia, il tesoro di Dio si riversa in noi e sugli altri mediante noi. altrimenti saremo soltanto pieni di tesori nostri che si corrompono e marciscono in vassi apparentemente belli. Se riconosciamo la nostra debolezza e chiediamo perdono, allora la misericordia risanatrice di Dio risplenderà dentro di noi e sarà pure visibile al di fuori. Gli altri avvertiranno in qualche modo tramite noi la bellezza gentile del volto di Cristo. A un certo punto, forse nel momento più difficile con la comunità di Corinto, Paolo cancellò una visita che aveva in programma di farvi, rinunciando anche alle offerte che avrebbe ricevuto. Esistevano tensioni nella comunione, ma non ebbero l'ultima parola. Il rapporto si rimisse in sesto e l'Apostolo accettò l'offerta per il sostegno della Chiesa di Gerusalemme. I cristiani di Corinto ripressero operare insieme alle altre comunità visitate da Paolo per sostenere chi era nel bisogno. Questo è un segno forte di comunione ripristinata. Anche l'opera che la vostra comunità svolge insieme ad altre di lingua inglese qui a Roma può essere vista in questo modo. Una comunione vera e solida cresce e si irrostovisce quando si agisce insieme per chi ha bisogno. Attraverso la testimonianza concorde della carità il volto misericordioso di Gesù si rende visibile nella nostra città. Cattolici e anglicani siamo umilmente grati perché dopo secoli di reciproca diffidenza siamo ora in grado di riconoscere che la feconda grazia di Cristo e all'opera anche negli altri. Ringraziamo il Signore perché tra i cristiani è cresciuto il desiderio di una maggiore vicinanza che si manifesta nel pregare insieme e nella comune testimonianza al Vangelo soprattutto attraverso varie forme di servizio. a volte il progresso nel cammino verso la piena comunione può apparire lento e incerto ma oggi possiamo trarre incoraggiamento dal nostro incontro. Per la prima volta un Vescovo di Roma visita la vostra comunità è una grazia e anche una responsabilità la responsabilità di rafforzare le nostre relazioni all'ode di Cristo a servizio del Vangelo e di questa città. Incoragiamoci gli uni agli altri a diventare discepoli sempre più fedeli di Gesù sempre più liberi dai rispettivi pregiudizi del passato e sempre più desiderosi di pregare per e con gli altri. Un bel segno di questa volontà è il gemelaggio realizzato tra la vostra parrocchia di All Saints e quella cattolica di ogni santi. I santi di ogni confessione cristiana pienamente uniti nella Gerusalemme della Su ci aprono la via per percorrere qua giù tutte le possibili vie di un cammino cristiano fraterno e comune dove ci si riunisce nel nome di Gesù egli è lì e rivolgendo il suo sguardo di misericordia chiama a spendersi per l'unità e per l'amore che il volto di Dio splenda su di voi su le vostre famiglie e su tutta questa comunità l'amore